Proviamo a fare il punto sui 19 parlamentari che rappresenteranno la Calabria, 12 complessivamente nei collegi plurinominali, 8 alla Camera dei Deputati, 4 al Senato della Repubblica. A questi si aggiungono 2 ai collegi uninominali del Senato e 5 dai collegi uninominali della Camera. Questi i risultati definitivi pubblicati sul sito eliggendo del Ministero dell'Interno con i seggi assegnati in Calabria alla Camera e al Senato. Sono senatori Ernesto Rapani di Fratelli d'Italia e Tilde Minassi della Lega. Sono deputati Anna Lauro Rico del Movimento 5 Stelle, Domenico Furgiuele della Lega, Bandaferro Fratelli d'Italia, Giovanni Arruzzolo Forza Italia, Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Per il proporzionale sono senatori Fausto Orso Marso Fratelli d'Italia, Mario Chiuto Forza Italia, Roberto Scarpinato Movimento 5 Stelle e Nicola Irto del Partito Democratico. Sempre nel proporzionale sono eletti deputati Alfredo Antoniozzi ed Eugenia Roccella dei Fratelli d'Italia, Giuseppe Mangialavoli di Forza Italia, Simona Loizzo della Lega, Riccardo Tucci del Movimento 5 Stelle che ha preso il posto di Federico Caffiero De Rao, inserito anche nella lista del Movimento 5 Stelle in Emilia Romagna dove è stato eletto. Con loro Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle, Nico Stumpo del Partito Democratico, Enza Bruno Bossio lo stesso del Partito Democratico.